Iniziamo e ottimiamo il nostro programma con Mozart e Jung, l'arrangiamento di Michele Macchio. Mozart è un composito per l'ostriaco, vissuto nel 1756-1781, è considerato uno dei più grandi maestri dell'arte musicale. Ha composto bellissime sincronie, imponenti opere, sonanti con la ponte, concerti ed un superiattivo rete. Maestro della creazione di melodie, cercò sempre la giurezza e la bellezza, raggiungendo i vari di grandissimi nella semplicità e nella grazia per le sue composizioni. Nel brano Mozart è più lunga di Dichia e Magni, ascolteremo alcuni detti amici e pelli, in una ragione di tolta, con un'era che di parte, come l'acigliare di mano, e per concludere, torni non si sfidano, non più andrà il sacco di un regno rosa. Buon ascolto e un applauso alla maestra Sandra Drago. Applausi Grazie Applausi Applausi Grazie. 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 Grazie.